ciao a tutti oggi guardiamo un merlot allevato a cordone speronato ma potato meccanicamente come d'abitudine ci tengo a ribadire come la potatura meccanica sia da intendere come un'opportunità e non come un obbligo in molte realtà viticole è sorta l'esigenza di meccanizzare la potatura a seguito dell'aumento delle superfici vitate della scarsa reperibilità della manodopera e della necessità di contenere i costi di gestione del vigneto in questo vigneto è stata adottata la potatura meccanica a cantiere unico con leggera rifinitura sulla potatura meccanica ho già pubblicato diversi video di cui vi lascio i link nel testo a corredo di questo video l'altezza dei cappi a frutto viene decisa dalla prepotatrice e la rifinitura si limita a 4 6 tagli per ciascuna vite in questo vigneto che ha 19 anni potiamo con sole 18 20 ore per ettaro e le rese sono molto buone gli stessi risultati li otteniamo anche con altri vitini come ad esempio il pino bianco vicino al quale mi trovo in questo momento per avere successo la potatura meccanica richiede innanzitutto un cambio di mentalità da parte del viticoltore il cambio ovviamente della tecnica viticola adottata inoltre devono essere evitate pericolose improvvisazioni detto questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video ciao a tutti